Stratale 106 Volevo disseppellire delle storie che sono molto spesso dimenticate perché la Calabria non viene raccontata e volevo viaggiare lungo questa strada di villaggio in villaggio per cercare di arrivare a un obiettivo finale che è quello di decifrare la mentalità criminale che ha portato l'Andrangheta a diventare l'organizzazione criminale più potente del mondo. Questo viaggio poi lungo la Stratale 106 mi ha aperto delle finestre che vanno in tutto il mondo, dal Canada dove è in corso una faida che dura tuttora, all'Australia fino alla Germania e all'Europa centrale. Il libro è un reportage e per fare il reportage bisogna necessariamente recarsi sui luoghi, parlare con le persone, fare delle ricerche, cercare dei testimoni che magari all'inizio non vogliono raccontare tutto perché hanno subito dei traumi. Questo richiede un contatto umano. Questo contatto umano ci è stato strappato durante questa epidemia di Covid-19 e fare il lavoro del reportage è molto molto complicato. Spero che per lo stato di salute del giornalismo si possa tornare presto di nuovo, andare sui posti e raccontare le storie. Grazie, sono molto contento di partecipare al Premio Napoli e a presto.